Sapete a chi chiediamo? Un premio strega. Buonasera, vi presento Emanuele Trevi che ha vinto quest'anno il premio strega con due vite. Siamo davanti a una divisione, diceva il professor Miranese, dal punto di vista linguistico, perché dal punto di vista fattuale i dati, dice l'Arias Otis, condannano questa divisione. Condivido l'osservazione della collega, anche se non sono portato poi a rimproverare nessuno per i suoi atteggiamenti, ma questa cosa qua, ogni volta che io poi vi sento molto, c'è una specie di salto di livello nei dibattiti, ma non perché noi siamo dalla parte della ragione, figuriamo se esiste una parte della ragione in questo casino. E proprio, mi viene in mente un famosissimo romanzo che ha ispirato il film di fantascienza più famoso di tutto la storia, Blade Runner, no? Questo romanzo bellissimo di Philip Dick, grande scrittore californiano, si pone un problema, dice come distingo l'uomo da un'imitazione dell'uomo perfetta? Avete visto tutti il film, no? E che cos'è l'unico discrimine che hanno? Perché gli sfuggono questi androidi, quindi devono sapere chi sono. C'è un green pass della fantasia, se sei uomo o se sei android, sennò sei un pericolo. È la macchina dell'empatia. La macchina dell'empatia è quella che ci rende certi che anche l'imitazione più perfetta dei tessuti umani sia un'imitazione, una cosa artificiale. Quando io vedo, adesso non mi ha colpito l'ironia sui compagni di pallavolo, però quando io vedo una... Floris, tu hai chiesto al professore una cosa. Dice, e questo sempre accade, dice ma come ti rendi conto, si rende conto che se vuoi occupare due terzi di terapia intensive siete un problema gravissimo. E poi vorrei aggiungere delle cose su questo, non sono solo le terapie intensive. È il problema che noi sembriamo autorizzati ad ammalarci solo i covid, perché esiste un sacco di sfiga nella vita umana, scusate il termine, che viene da incidenti e da patologie. Da due problemi, perché abbiamo paura anche di romperci la caviglia. E altra cosa, ancora più tragica a mio parere, è che è terribilmente problematica la visita ai malati. La visita ai malati è una parte essenziale. Quindi a miei occhi questa è una forma veramente di mancanza totale di empatia. Ma l'ho visto prima, lei ha chiesto questa cosa e il professore, che è professore, lei ha detto no, dobbiamo parlare, ma che c'entrava con la domanda ai guariti? E questa è la cosa che fa pensare. Allora, professor Fraiese. Allora non c'entra niente questa, è questo che fa strappare i capelli. Uno le chiede, professore, porca miseria, ci sono due terzi di persone per dei cretini, che ascoltano magari dei professori, non dico lei, ancora più cretini, che rendono questa situazione perché spostano anestesisti, spostano... Ma io voglio bene a lei e al professore che... Allora, stiamo vedendo che lì è la macchina, con l'androidi, perché si era preparato il suo argomento, paraculo. Si era preparato, Flore, l'argomento. Se Paolo ti rideva nei nuovi ex, quello andava bene. Allora, i guariti, siamo tutti contenti, stanno fuori dalla terapia intensiva. E tutto il ragionamento è fatto così. Non si riesce a stringere nemmeno una domanda elementare. Perché è partito così in quarta? Perché quella cosa lo imbarazza. Perché su quella cosa si sente un infame. E perché direbbero in tanti, professor Fraiese,